Uno dei temi fondamentali di questo Festival della Salute è proprio l'educazione alimentare. Come dicono quelli che parlano bene, è sviscerata in tutte le sue forme, quindi dai problemi alimentari con la dottoressa Rachi e gli esperti, piuttosto che al cooking show di alcuni chef stellati, che insegneranno come si cucina bene, ma non bene perché deve essere solo buono, non bene perché deve essere salutare, deve essere naturale. Va così? Sì, il tema dell'alimentazione e della nutrizione è un tema, ce lo insegna Espo, che ormai è all'attenzione di tutti, finalmente io dico. Questo riguarda modifiche degli stili di vita, pensiamo soltanto a come vada modificata, per esempio anche a partire dall'infanzia, l'educazione alimentare dei nostri figli, pensiamo alle colazioni, al tipo di colazioni che si fanno e così via. Noi abbiamo all'interno del Salute Fest voluto la partecipazione, il contributo di alcuni esperti sui temi dell'alimentazione e della nutrizione che vengono da tutto il mondo e che portano esperienze importanti in questo settore. Ma abbiamo voluto che intanto ci fossero i produttori, ci fossero per esempio i produttori di grani antichi che avranno il loro spazio, che potranno far conoscere le loro produzioni, quindi il Tuminia, il Russello e così via. Abbiamo, da questo punto di vista, dobbiamo ringraziare il contributo del GAL, Valle e Limera in questa direzione, ma oltre ai produttori abbiamo voluto invitare tre chef stellati e anche l'associazione dei cuochi della provincia di Caltanissetta insieme all'istituto alberghiero a darci una mano d'aiuto per dimostrare che si può fare buona, ottima cucina, addirittura cucina stellata, pur utilizzando prodotti naturali e prodotti salutari. Prodotti che quindi non sono solo buoni e sono qualitativamente eccellenti, ma sono anche dei prodotti che portano salute, che evitano per esempio dell'intolleranza. Ho citato i grani antichi e noi sappiamo che molte intolleranze possono essere superate, le intolleranze alimentari possono essere superate con questi grani, con l'utilizzo di questi grani.